Sempre succede, la sigla ci prende mentre ancora parliamo con gli ospiti. Buon pomeriggio a tutti, siamo in compagnia in questa prima parte di Trieste in diretta del professor Marco Confalonieri che è direttore della struttura complessa di pneumologia di Asugi, grazie per essere tornato nei nostri studi e siamo anche in compagnia del dottor Francesco Salton che presso pneumologia è dirigente medico, ma il dottor Salton è anche in rappresentanza di Amare che è l'associazione di volontariato, Amare FVG, che ieri è stata insegnita del sigillo trecentesco del Comune e credo partendo anche da questo riconoscimento ieri pomeriggio, pomeriggio tardo, c'è stato un incontro dedicato alle questioni che hanno a che fare con la cura delle malattie pneumologiche. Ho detto tutto curiosamente con velocità, stante i miei ritmi. Intanto, professor Salton, immagino che per l'associazione sia stata una soddisfazione comprensibile, insomma. Una soddisfazione è un vanto direi. Amare è da anni, da un paio di decenni ormai quasi, che sostiene le attività della pneumologia di Trieste e è un'attività fondamentale per noi, mi ci metto in mezzo perché ci lavoro, sia dal punto di vista del sostegno dell'attività clinica che anche e soprattutto dell'attività di ricerca, che è quello che ha voluto sottolineare sia la premiazione prima che l'evento a Latere che ha seguito ieri poi. Amare è un acronimo? AMAR è un acronimo, Associazione Malattia Apparato Respiratorio, ex ATMAR, Associazione Triestina Malattia Apparato Respiratorio, poi semplificata in AMAR dopo la confluenza del Giuliano Isontino. Ho capito, sapevo che era un acronimo, ma insomma. Laddove, professor Confaronieri, quanto è importante per una realtà anche affermata, insomma, com'è pneumologia, poter contare su realtà come AMAR, cioè qual è il rapporto? È un rapporto fondamentale perché ci è sicuramente disprone, ricordiamo che è un'associazione che ha come primo presidente una persona molto conosciuta e amata in città che era il vicequestore Sergio Petrosino, che purtroppo ha avuto anche delle problematiche nel campo delle malattie respiratorie e la cosa fondamentale è che sostiene non solo con donazioni di attrezzature, ma insieme anche ad altri enti come possono essere la Fondazione Cassa degli Sparmi di Trieste, la stessa università ci sostiene per la ricerca. Il tema che noi abbiamo cercato di sviluppare ieri in quell'incontro in sala Baslen, nella stessa giornata in cui si celebrava i 20 anni dell'associazione, si celebravano anche i 20 anni dalla nuova pneumologia quando poi era stato chiuso l'ospedale Santorio e si è iniziata questa attività a Cattinara. Tutto questo è stato aiutato molto anche da Amara e dai fondi che sono stati dati per la ricerca. A la ricerca poi abbiamo avuto un esempio fondamentale, direi molto esemplificativo all'inizio della pandemia. Certo, poi ci torniamo. Già che ci siamo, era ciò di cui discutevamo durante la sigla. Abbiamo storicizzato troppo presto il periodo pandemico per esigenze, per certi aspetti anche comprensibili, anche da un punto di vista psicologico, oppure no? Bisogna capirci, storicizzato vuol dire tutto alle spalle. Noi vivremo con questo virus, ormai fa parte dei virus che possono colpire la specie umana per sempre, come del resto è accaduto con altri virus. Certamente l'impatto che c'è stato all'inizio, virus sconosciuto, assenza completa di difesa immunitaria in tutta la popolazione, alto numero di casi contagiati, minor casi gravi rispetto a quelli contagiati, ma c'era anche l'impossibilità di riconoscere da dove veniva il contagio in molte situazioni. Abbiamo tutta la memoria del periodo del lockdown e quello che ha rappresentato il primo impatto del virus in Italia, reale, crudo, io spero che sia storicizzato. Certamente sono successe tante cose, si sono trovate delle cure efficaci, si è sviluppata un'immunità comune nella maggior parte della popolazione grazie alle vaccinazioni e poi comunque attualmente di casi gravi aondate come ci sono state, onestamente non ce ne sono più. Sul Corriere della Sera o su Repubblica di oggi, il titolo nella pagina online c'era un intervento della professoressa Capua che logicamente quando uno legge, quando si ferma al titolo fa paura e si dice ci risiamo, invece diceva dovesse venire un'altra epidemia sarà un'epidemia anche questa particolarmente grave, non è che arriva un'altra, dovesse arrivare, c'è anche questo da prendere in considerazione per chi poi solamente legge consuma. Certo sì, sicuramente le pandemie ci hanno abituato ad essere così storicamente, nel momento in cui arrivano trovano le difese immunitarie della popolazione impreparate e fanno danni. Il bello e il vantaggio però di fare ricerca è proprio questo, cioè cercare di arrivare più preparati possibile e limitare i danni che anche un eventuale, speriamo più lontana possibile pandemia potrebbe comportare. Questo poi è quello che abbiamo fatto anche durante questa pandemia, nel senso che alcuni farmaci come per esempio i cortisonici, non so se ne avremo modo poi, se avremo modo di parlarne un attimo dopo, sono farmaci economici e che avevamo già studiato prevalentemente grazie all'esperienza del professor Conferonieri già dagli anni 2000 e che abbiamo usato poi con successo e il successo è stato riconosciuto a livello mondiale anche in questa pandemia. Il lavoro dell'associazione nel corso degli anni, com'è cambiato? L'associazione durante gli anni ha fatto fortunatamente sempre la stessa attività che è un'attività di supporto, quindi prevalentemente un'attività di raccolta fondi da parte di privati o persone che sostengono l'associazione e distribuzione in servizi a vantaggio della popolazione e della struttura complessa di pneumologia. Quindi da questo punto di vista fortunatamente la direzione è questa e l'associazione non è cambiata. Poi certo si sono susseguite persone diverse e sempre valide alla guida dell'associazione, però l'impronta statutaria proprio è questa qui, il sostegno incondizionato alla pneumologia. Allora, dicevamo appunto che nel pomeriggio di ieri, a completamento della giornata, si è tenuto questo incontro che si intitolava Si cura meglio dove si fa ricerca, che mi diceva il professore Confronieri, una frase di Veronesi. Tra l'altro il discorso su cure, ricerca, adesso mi serve per portare avanti la discussione, ma comunque questa mattina c'è stato invece sull'ospedale Maggiore un incontro per il conferimento di alcuni fondi e anche lì è venuto fuori dove, forse è una riflessione anche un po' cinica, ma fare ricerca, curare meglio significa anche risparmiare per certi aspetti, cioè metterla anche in testa della gente determinate, determinate buone pratiche, significa anche arrivare ad un risparmio. È brutto detta così? Sì, detta così deve essere spiegata. Sì, deve essere spiegata. Sì, ovviamente, l'abbiamo visto con la pandemia della Covid, non ci può essere una buona risposta sanitaria se non c'è neanche un investimento da parte della società in questa importante, fondamentale attività che è quella medica. La ricerca è un qualcosa che può aiutare a spendere meglio i soldi, più che diciamo in senso stretto risparmiare, anche se di fatto va capito che è una cosa fondamentale. Ci sono alcuni aspetti che hanno cambiato molto la sanità in questi ultimi decenni, per esempio aziendalizzazione, rendere gli ospedali delle aziende, che vuol dire si sta attenti, come diceva lei, a quanto si spende e come si spende. Poi una cosa che sta succedendo, ieri abbiamo avuto l'onore di avere delle autorità importanti che hanno parlato a questo incontro, tra cui il Presidente della Regione Puglianese Giulia, il Vescovo Tremisi, il Direttore del Dipartimento De Manzini, piuttosto che il Direttore Generale Poggiana. Bene, il Governatore Federica ha detto una cosa molto semplice, non si può avere un ospedale che fa 4 interventi chirurgici all'anno. È chiaro che dal punto di vista localistico è un vanto avere l'ospedale con la chirurgia, ma da un punto di vista della distribuzione corretta delle risorse è un rischio per chi va in un posto dove non ci sono sufficienti numeri per poter addestrare le persone a un'attività così impegnativa e particolare come quella chirurgica e d'altro canto poter sviluppare ricerca vuol dire allenare chi lavora nel campo medico ad essere innovativi, ad essere sempre aperti alle cose più nuove, migliori ed è un'attività che c'è in qualsiasi azienda, soprattutto nelle grandi aziende, tutte hanno il loro settore di ricerca e sviluppo e quindi anche la sanità deve essere iniziata a pensare anche in questo modo, in un certo senso, quello che avviene già in molte esperienze internazionali e anche europee, non solamente ad oltremanica. Lei, dottor Salton, è anche molto giovane, leggevo, anzi no mi raccontavano in questi giorni e comunque si leggeva insomma anche della crisi di vocazione che c'è in medicina, è così grave, è così evidente oppure anche qui i mezzi di informazione che hanno un ruolo notevole anche nel formare determinate opinioni, insomma diciamo così, esagerano un pochino. Ma sì guardi io non parlerei tanto di crisi di vocazione, persone appassionate e che ogni anno si iscrivono prima al corso di laurea in medicina e poi entrano nelle scuole di specializzazione sono sempre di più, tant'è che ieri proprio durante l'evento serale si è parlato anche di programmazione in un certo senso, nel senso che bisognerà anche essere in grado di gestire i numeri dei professionisti che si formano evitando la fuga dei cervelli all'estero per esempio che è un problema molto attuale, quindi io onestamente non parlerai tanto di deficit di vocazione, ecco il problema è proprio, sarà in prospettiva futura ma abbastanza prossima la gestione delle risorse umane che formiamo. Qui posso aggiungere una cosa perché lui non lo dirà mai, io sono particolarmente orgoglioso che ci possa essere qui a mio fianco il dottor Francesco Salton, è giovanissimo, ha solo 31 anni, ma all'età di 31 anni lui ha ottenuto l'idoneità scientifica nazionale per professore associato di malattie per lato respiratorio, cioè ci sono anche dei giovani con qualità, lui è stato il primo in Italia quando c'è stato il concorso nazionale per entrare nelle malattie del parato respiratorio nella specializzazione, il primo diciamo che ha scelto pneumologia e sono particolarmente orgoglioso che abbia scelto poi di venire a Trieste, non è triestino ecco, per cui... Però dovresti stare a queste parti comunque... Ma sì, sono Veneto, non molto distante... Ci sono altre specializzazioni, c'è Padova che forse era più vicina, eccetera, comunque in ogni caso bisogna anche valorizzare i giovani, non solo diciamo invogliarli e fare ricerca può essere un modo per rendere più interessante e più appetibile anche invece di andare all'estero l'attività medica in Italia, anche per i giovani. Ma ha senso il discorso sull'accesso a medicina, sulle prove per l'accesso a medicina che molti reputano eccessivo, molti addirittura vorrebbero abolirlo, eccetera. Cioè il problema è quello del numero chiuso? Sì, del numero chiuso, sì. Sì, il numero chiuso è legato a due fattori. Uno è il fattore della disponibilità delle attrezzature da parte dell'università e anche del personale che possa seguire e far crescere in modo adeguato i giovani candidati a diventare medici. La seconda problematica è quella che forse è stata più carente in questi ultimi anni, è quella di una programmazione delle necessità in base al reale fabbisogno. Abbiamo adesso una situazione in cui c'è più fabbisogno di disponibilità, ma i sindicati medici, ho letto che non tanto tempo fa hanno dimostrato che essendoci stata una sovrappondanza di offerte di bors per medici, per specializzazione di medici, poi avremo in un futuro non lontano anche di nuovo un accesso di medici. Quindi la problematica non è lasciare tutti liberi e poi come succederà nei nostri tempi, io faccio parte dei boomers, quindi eravamo veramente in tanti iscritti e poi c'è stata una selezione fortissima durante il corso degli studi, ma più che altro avere una programmazione che sia adeguata con l'andamento della situazione sanitaria e dei pensionamenti, entrate e uscite. Tutto questo andrebbe tenuto con maggiore attenzione, perché abbiamo visto durante la pandemia che ci sono state, ci stata necessità di aumentare praticamente la nostra scuola di specialità in meno di un anno, triplicata come numero di posti messi a disposizione, perché poi particolarmente poi nelle malattie dell'apparato respiratorio con questa pandemia c'erano molti più le necessità di quante erano le offerte di specialisti. È difficile parlare di un settore di ricerca specifico per quanto riguarda la pneumologia, immagino. Se così fosse, la domanda è molto semplice e mi rendo conto anche molto vasta come possibilità di risposta. Dove va la ricerca nel settore della pneumologia? Allora, la domanda è difficile, ma le risponderò così. A mio parere la ricerca più vasta è, nel senso di più ambiti riesce a coprire pur garantendo un'elevata qualità e meglio è. Da questo punto di vista il nostro territorio è unico sul panorama nazionale, forse europeo, nel senso che riunisce in poco spazio strutture di eccellenza, Elettra, SGB, che messe insieme, coordinate da qualcuno, ecco qualcuno poi è davvero il soggetto difficile da trovare, nel senso che la vera ricerca nasce da una reale esigenza, però è quello che stiamo cercando di fare noi. Ben coordinate possono avere delle potenzialità incredibili, per cui la nostra ricerca non è focalizzata, si è concentrata in alcuni settori, è partita ed è tuttora attivo un filone che studia le malattie fibrosanti del polmone, in particolare la fibrosi polmonaridiopatica, che è una malattia progressiva con una prognosi molto in fausta. Una malattia ad incidenza fortunatamente bassa, una malattia che fa parte delle malattie rare, però che attualmente non trova una risposta terapeutica soddisfacente. Quello che stiamo cercando di fare dal punto di vista proprio della biologia molecolare, grazie alla collaborazione con il laboratorio di Functional Cell Biology di SGB, coordinato dal dottor Braga, è di trovare dei nuovi farmaci che possano cambiare proprio la storia di questa malattia. Altri, ma per dirne alcuni, non sono tutti, ecco altri settori su cui si è concentrata la ricerca e su cui si sta concentrando ancora adesso, sono l'intelligenza artificiale, abbiamo fatto in collaborazione con il corso di laurea di Data Science dell'Università di Trieste una progettualità in cui abbiamo sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale che è in grado di predire con una eccellente precisione la prognosi, quindi come andranno a finire delle polmoniti gravi. Ecco, i dati sono stati presi dalla polmoniti Covid, però l'idea poi è generalizzare questi dati anche rispondendo alla sua domanda di prima, chi lo sa per futura referenza, speriamo di no. Queste sono solo alcune. Quindi il concetto di multidisciplinarietà che viene applicato, ogni volta che intervisto qualcuno, qualche suo collega, prima o poi si parla sempre di altre strutture, è un discorso che poi si allarga anche a quello che si allarga anche alla ricerca. È fondamentale, non dimentichiamo una cosa, noi siamo abituati a sentire i racconti dei medici del passato che al tempo stesso curavano e facevano la ricerca dalla A alla Z, oggi l'evoluzione della scienza, si pensi a un importantissimo progetto Genoma Umano e quello che ha cambiato anche nella visione della medicina, non si può fare senza i biotecnologi, senza i fisici, senza i chimici, senza genetisti e biologi, cioè mettere insieme delle squadre che ciascuno nella propria competenza cooperano insieme, come diceva prima bene Francesco Salton, a rispondere a dei problemi reali che si trovano a letto del malato. Ma da quando si è incominciato a ragionare in tal senso? Oppure è stato così, ci si è arrivati… Per quanto riguarda la pneumologia di Trieste, io vengo da Bergamo, a Bergamo c'era l'Istituto Mario Negri, una delle sezioni principali dell'Istituto Mario Negri, il primario della nefrologia era un certo professore Muzzi, molti l'hanno conosciuto anche durante la pandemia, sicuramente è uno degli scienziati in campo della medicina più famosi a livello internazionale e il mio primario di allora, il professore Andrea Rossi, era scientific officer dell'European Respiratory Society, detto in italiano, era responsabile scientifico della società europea di tutti i pneumologi europei e quindi sono nato con questo sogno della medicina scientifica, quindi una medicina che faccia anche ricerca. Il progetto di Catinaga, come un progetto che mette insieme ricerca, didattica e assistenza medica con varie discipline, era un qualcosa di molto attraente per me, infatti capisco i tristini e la loro affezione come posto del cuore al maggiore, io non sono tristino, lo chiedo, chiedo perdono per questo, non ho mai sentito questo tipo di affezione, anche se capisco e penso che sia giusto anche però seguire l'evoluzione del tempo e cercare, purtroppo l'ospedale di Catinaga che era stato progettato con questa idea che l'allora Presidente della Regione Antonione e poi dopo anche Illy avevano cercato di mandare avanti, è ancora in attesa di un suo completamento e siamo ancora in attesa che venga creato quel campus di cui ha parlato anche recentemente il Rettore di Lenarda, ma siamo fiduciosi, bisogna essere fiduciosi. Perché mia nipote si sposa con un ragazzo di Bergamo, quindi detta così. Allora, quando si parla di malattie polmonari, torniamo un pochettino più alla base, anche perché ce l'abbiamo verso la conclusione della nostra chiacchierata. Quando si parla di malattie polmonari sono quelle dove il discorso degli stili di vita sembra più facile da applicare, nel senso non fumare, fare una certa attività motoria. Perché quando si parla di stili di vita, pur se noi li conosciamo, pur se conosciamo ciò che si va incontro, se non ci atteniamo a determinati stili di vita, gioco forza, come dire, non li abbracciamo in toto. Perché? È una questione proprio di testa probabilmente. Ma sì, la domanda è difficile. Se avessimo la soluzione smetteremo di fare questo lavoro. Noi come tutti gli altri medici probabilmente. E certo, qui nell'ambito delle malattie respiratorie si tira in ballo l'abitudine al fumo, che è un discorso un po' a sé, nel senso che porta con sé non soltanto una questione di scelta soggettiva, anche una questione di dipendenza biologica, se vogliamo. E quindi forse sì, è un ambito, però non differisce molto dall'ambito delle malattie metaboliche, cardiovascolari, non tanto il fumo, quanto l'adozione di adeguati stili di vita. Quindi la domanda è una domanda da un milione di dollari. Quello che dobbiamo fare noi e in cui la ricerca può aiutare è non soltanto la cura, ma anche la prevenzione. Un esempio, partiremo a breve adesso con un progetto di telemedicina, di telemonitoraggio, che applicheremo intanto a pazienti dimessi dall'ambito ospedaliero, ma che in un futuro speriamo prossimo potrebbe trovare applicazione anche nella gestione puramente domiciliare, quindi nell'evitare il ricorso all'ospedale, nel possibile, all'ospedale nel senso di ricovera, non di specialistica ospedaliera. Ed è un progetto in cui crediamo molto, che adesso inizierà proprio a stretto giro. E anche questa è la strada neanche del domani, di Frampaio d'Oro. E poi chiudiamo proprio in, questa è una mia anche, questo clima del tutto folle, dove ci troviamo a, io non ho mai indossato la sciarpa pesante in tutti questi mesi ed è, sembra persino strano. È insidioso? Certo. Beh, c'è comunque già diversa letteratura sulla scientifica, sull'impatto che i cambiamenti climatici possono avere sull'apparato respiratorio. Non dimentichiamo una cosa, che l'apparato respiratorio è l'organo umano, ancora più della pelle, molto di più della pelle, più esposto all'ambiente esterno. I cambiamenti dell'ambiente esterno hanno delle profonde influenze poi dopo non solo sul clima, diciamo atmosferico in quanto tale, ma anche sulla composizione dell'ecologia, quindi dei microorganismi che vivono in questo ambiente, oltre che sulla creazione di fenomeni estremi, piuttosto che di particolari situazioni di inquinamento che poi incidono sulla salute respiratoria, ne dico una su tutte. L'aumento della temperatura fa aumentare ai bassi livelli di atmosfera, cioè dove vive l'uomo, i livelli di una particolare inquinante che si chiama ozono, da non confondere con quello delle altri stati dell'atmosfera, della stratosfera, perché quello che è in eccesso è un irritante, invece dell'ossigeno O2 è O3 ed è un irritante per le vie aeree. Questo comporta una serie di problematiche sia per chi ha altri problemi come allergie, ma anche per persone che normalmente potrebbero non avere questo tipo di problematiche respiratorie, quindi il cambiamento climatico porta dei cambiamenti anche a livello proprio dell'inquinanti, oltre che di altri aspetti, microrganismi, eccetera, che abbiamo detto prima, oltre poi tutte le problematiche che crea sulle attività dell'uomo e quindi fenomeni di carestie, di fame, eccetera, eccetera. Quindi è uno degli aspetti che già il mondo medico-scientifico sta prendendo in serie considerazione da tempo e penso che ci vuole una presa di consapevolezza anche da parte di tutti. Grazie al professor Marco Confaronieri, direttore della struttura complessa di pneumologia e grazie al dottor Francesco Salton che della struttura che è spresso, come si dice, la struttura complessa di pneumologia è dirigente medico. Buon lavoro ad entrambi e grazie per essere stati con noi. Adesso cambiamo argomento, subito dopo la pubblicità parliamo di musica. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, parliamo di musica, lo facciamo assieme a Paola Erdas che è il direttore artistico, o sbaglio? La direttrice artistica. La direttrice artistica di Wunderkammer, rassegna internazionale di musica antica. Domani c'è un appuntamento molto particolare, in un luogo anche particolare se vogliamo. Sì, è un luogo a noi molto molto caro. Anche a me, poi le spiego anche perché. È la sala delle colonne della Torre del Lloyd, siamo ospiti del porto di Trieste che da diversi anni ci onora di questa sua predilezione ed è un luogo perfetto per la musica antica perché suona come una chiesa ma non ha le limitazioni di repertorio che una chiesa normalmente ha. Impone, insomma. Esatto. Quindi è un posto molto bello, molto bello sia da un punto di vista estetico che sonoro e che piace alla gente perché possono finalmente entrare in un luogo che normalmente non è accessibile a tutti. Per me invece è quasi casa perché io i primi due anni della mia vita ho abitato nel palazzo che sta praticamente di fronte, guardando in fronte alla Torre del Lloyd sulla sinistra, dove abitavano poi i miei nonni eccetera, quindi è un po'... Ah, è un luogo speciale, ha veramente un fascino unico. È molto... poi adesso anche giustamente è stato... perché se non ricordo male quando io ero bambino e quando i miei nonni ancora c'erano... non era nemmeno in uso, mi pare che era come edificio, non era sicuramente... mi pare che non fosse là la direzione del porto, ma posso anche sbagliare per dire... Non lo so, io so che la sala delle colonne era l'antico approdo, che è stato poi chiuso, ma ci arrivavano in realtà... Addirittura, chiederò a mia mamma stasera quando torno, così sarò ancora più edotto. Allora, domani appunto c'è questo concerto, Flutes and Fretts. Esatto, allora sono un duo di giovanissimi inglesi che sono stati scelti anche grazie alla partnership che noi abbiamo con Musique Impulse Centrum di Anversa, è un centro musicale enorme che promuove ogni anno questa YAP Presentation, cioè ci sono dei gruppi di musica antica che fanno un concorso e vincono una sorta di masterclass con dei grandissimi interpreti, imparano a gestirsi sul palco, imparano anche ovviamente delle cose musicali e poi vengono presentati a organizzatori di festival. Ecco, noi siamo, Wunderkammer è nel giro di questi organizzatori scelti per giudicare e per, in caso, chiamare questi giovani artisti e io ho sentito la loro registrazione perché non sono potuta andare di persona ad Anversa quest'anno, mi sono piaciuti tantissimo perché hanno una gioia, un'eleganza, una freschezza veramente uniche. Hanno poi dei nomi che più inglesi non si può perché si chiama Beth Stone e Daniel Murphy, quindi sarà forse probabilmente anche irlandese perché Murphy mi pare... Se me lo gli ho chiesto ieri, sembra che probabilmente ci sia un antenato irlandese, a vederlo capelli rossi... Che cos'è il traversiere, si pronuncia l'italiana, traversiere barocco? Sì, direi di sì. Il flauto? Il flauto è traverso barocco, quindi è un flauto interamente di legno senza chiavi, se non l'ultima in fondo, quindi risulta essere abbastanza diverso da gestire rispetto a un flauto moderno che ha tutte le chiavi, è un suono dolcissimo, il legno, d'altronde nell'orchestra si chiamano i legni, perché sino a quasi l'altro ieri erano di legno, magari con le chiavi, ma erano di legno. Laddove invece Murphy suona il liuto. Il liuto. Allora, domani poi fra l'altro, e anche, non so se l'ha detto perché prendevo un attimo un appunto, è la giornata europea della musica antica e la data scelta, 21 marzo, è quella della nascita di Bach? Esatto. Allora, questo tipo di... Ne abbiamo discusso, però vale la pena tornare su questi argomenti, nel senso che la musica antica in questi ultimi anni è tornata prepotentemente alla ribalta, nel senso che basta andare, se si va su YouTube si devono cercare determinate cose, ma si trovano. Però anche per esempio in alcune piattaforme come potrebbe essere Artee o altre, concerti di musica antica, opere che datano appunto il periodo del 1600, se non addirittura qualche anno prima, vengono proposti con una certa frequenza e mi pare di capire, ma adesso non vorrei adentrarmi in un territorio che conosco poco, mi pare di capire che sono anche delle palestre, chiamiamole così, per innovare un pochettino, soprattutto le opere che io intravedo, perché non avendo una grande cultura musicale non vado a vederle perché capirei poco per dire la verità, però da quel poco che vedo, mi fermerei volentieri a guardarle di più perché ti danno delle possibilità di messa in scena molto particolari, molto libere. Sì, devo dire che da questo punto di vista l'aspetto registico dell'opera barocca è particolarmente innovativo e c'è veramente una voglia e un'energia di creare qualche cosa di nuovo, ma non fine a se stesso, di interessante. non vuol dire che non si possa rappresentare naturalmente un'opera antica con i costumi dell'epoca, per carità, ma vedo che c'è una maggiore apertura mentale forse, un coraggio anche di fare non solo una musica meno scontata se vogliamo dire, ma anche di proporre una messa in scena magari audace, hanno fatto qualche anno fa una stupenda edizione dell'Esan Galante di Rameau. Ah, come no, alla Fenice di Venezia? No, è stato rappresentato per la prima volta a Parigi, se non sbaglio la Salga Vaud, se non sbaglio, e l'ultimo quadro dell'opera che si intitola Les Sauvages, che è basata sugli indiani d'America. Ah, è quello tutto nel bosco, dove c'è tutto verde? Esatto, in quell'edizione tutto il coro, i cantanti e i ballerini era come un hip hop spinto da strada. Ah, ho capito. Fu una messa in scena, mi vengono i brividi se ci penso, di un'energia musicalmente potentissima e altrettanto potente questo abbinamento danza di strada con dei ballerini pazzeschi, di cui molti di colore che hanno questo dono meraviglioso, rimarrei ore e ore a guardarli, con tutto il coro che partecipava a questa ricreazione dell'evento così selvaggio in maniera positiva della musica, bellissima. Quali sono secondo lei le, chiamiamole, istruzioni per l'uso nell'ascoltare, nell'approcciare la musica antica? Deve esserci da parte dello spettatore o dell'ascoltatore appunto un'attenzione particolare oppure fondamentalmente è sufficiente ascoltare che sarebbe già tanto per dirgli. Secondo me è una musica molto più facile da ascoltare di altra, perché è stata pensata per essere fruita in realtà da tutti, anche la musica tra virgolette, c'era meno differenza tra musica colta e musica popolare. Diciamo che la musica era fatta per essere fruita da tutti, che fosse Federico di Prussia, che sentiremo domani, le cui opere sentiremo domani, o l'ultimo dei servitori della sua corte, quindi in realtà è una musica facile da sentire. Il prossimo passo probabilmente, adesso per me non ho questo, lo dico io così perché mi è venuto in mente adesso tra l'altro, ma ci sono poi anche, e purtroppo almeno noi spettatori, gli unici momenti che possiamo vedere sono quelli ricostruiti dai film e lì non riesco mai a capire se si tratta di ricostruzioni fedeli o non fedeli, sono poi anche i balli collegati alla musica antica. Io vedo delle cose che mi dico, ma se questi ballavano in queste condizioni mi sembra un pochettino strano, però posso anche supporre che effettivamente ci siano delle ricostruzioni abbastanza precise di determinati movimenti. Allora in realtà sì, per la danza abbiamo numerosissimi trattati che descrivono esattamente i passi. Ho capito. C'è una scrittura coreografica assolutamente precisa e oltre a tutta la spiegazione tecnica ci sono una serie di tavole in cui i movimenti corrispondono alle battute musicali. Ho capito. Quindi abbiamo come se avessimo un piccolo film registrato nel passato. Mi viene in mente adesso, siamo in un periodo più vicino a noi rispetto alla musica antica, però pensiamo al 700 o forse anche all'800 per dire la verità e a una serie come Bridgerton dove ci sono molte contaminazioni, sono periodi forse perché più o meno vicini, comunque da noi sono distanti, dove si può giocare con la contaminazione, laddove non sarebbe possibile farlo, mettiamola così, con qualche cosa che si svolgesse da metà 800 in poi. ma fino a che arriviamo ai primi dell'800 ci si può ancora divertire, sto dicendo dovendo realizzare delle fiction logicamente. Sì, in realtà sì, più indietro si va e più libertà c'è. Sì, in quel caso c'è troppa per dire la verità, però non so. Non so se si ricorda di un film che io ho amato tantissimo, Il destino di un cavaliere, un titolo orrendo. Quella musica dei Queen. Era meraviglioso. Ci stava alla grande, devo dire la verità. Sì, sì, sì. E quindi ecco, la musica antica si presta anche a questo. In Wunderkammer abbiamo fatto diverse volte degli esperimenti anche piuttosto audaci. Uno degli ultimi l'ho fatto io con un mio collega ed era Cembalo Medievale, Salterio Medievale e Sax. Era Gavino Murgia che è un meraviglioso jazzista e vocalist anche sardo, protagonista dell'ultimo spot dell'Icnusa per dire. Ah, ho capito. Una voce, un talento musicale enorme. Inquietta un po' quello spot, per dire la realtà, forse fatto apposta. Ma perché lui ha questa voce, riesce a emettere dei suoni primordiali proprio. Ma è stato interessantissimo vedere con mano, toccare con mano, sentire come una musica così moderna come la sua andasse così bene con la musica addirittura del Medioevo. Un esperimento riuscitissimo, stiamo facendo questo concerto dappertutto e ogni volta è un grandissimo successo. Ma perché c'è una frase, adesso banalizzo un po' e chiedo scusa, ma c'è questa forza che è evocativa, che la musica si porta presso, eccetera, e che quindi la puoi utilizzare in tutti i modi. Io ricordo in un brano di Ornella Vanoni, credo l'autore delle parole fosse Bardotti, se non addirittura la stessa Vanoni. C'è una frase che a me torna sempre in mente e dice, puoi fare il cieco ma prova a fare il sordo quando ti insegue una musica. È una cosa bellissima perché non hai difese per certi aspetti e quindi penso che se fatto con intelligenza e con cose, sono quelle cose che restano. Poi io mi sono dimenticato perché poi quando io parto per le mie numerose tangenti, ma insomma con lei è molto piacevole per dire la verità fare questo tipo di discorsi, non ho chiesto ma poi quale sarà invece poi il repertorio di domani. Lei accennava appunto Federico il Grande. Allora, domani è la storia in musica di una delle sorelle di Federico, della più piccola, di Anna Amalia. Diciamo che il concerto è anche un'occasione per entrare alla corte di Prussia, scoprire tutti i retroscena di questa famiglia, conoscere meglio Federico il Grande, conoscere meglio Amalia, la sua sorellina più piccola, perché tutti e due, anzi assieme a Vilhelmine, la sorella più grande di Federico, a cui era estremamente legato, erano dei valentissimi musicisti. Infatti sentiremo musiche di Federico il Grande, musiche di Amalia anche, nonché di Carl Philippe e Manuel Bach, che lavorava alla corte di Federico. Insomma sarà veramente come entrare alla corte di Prussia, in cui questi due giovanissimi inglesi suoneranno queste musiche, io racconterò la storia. Mi correga se sbaglio, brani o un brano di Federico di Prussia si sente nella colonna sonora di quella meraviglia che è Barry Lyndon, se non mi sbaglio. Sì? Mi pare di sì. Non mi ricordo, però io ieri l'ho pensata, perché ho fatto un piccolo video a questi due ragazzi che stavano provando e ho illuminato tutto con le candele pensando a Barry Lyndon. Io con Paola Erdas ne parliamo sempre, è qualcosa di più di un film, è un'esperienza assolutamente meravigliosa. Io mi sono fatto fare la copertina del mio cellulare con un'immagine da Barry Lyndon. Davvero? Sì, poi è anche giusto che uno dichiari ciò che gli piace. Certo, assolutamente. Avevo due alternative, o Gregory Peck in Moby Dick o un'immagine di Barry Lyndon. L'ho detto no, mettiamo Barry Lyndon. Barry Lyndon. Perché c'è anche questa ricerca di luoghi, diciamo, insoliti in cui far musica. Diciamo, cerchiamo dei luoghi che vadano bene con la musica. Il concerto è un'esperienza plurisensoriale. Non sono solo le orecchie, è l'ambiente in cui è immerso, è l'atmosfera che si riesce a creare con le luci, e quindi ecco perché cerchiamo dei luoghi che si adattino particolarmente. Quindi ogni tanto serve un luogo molto più grande, per esempio usiamo il Teatro Miela perché è meraviglioso, è perfetto, poi ci può dare delle cose scenicamente più importanti, ma anche dei luoghi molto piccoli o speciali come la sala delle colonne della Torre del Lloyd che ricreano questa atmosfera da Wunderkammer. Ma per esempio un concertista come lei è, si rende conto subito entrando in un luogo delle possibilità di quel luogo come luogo di concerto? In realtà sì, basta parlare. Eh beh, voi, sì, certo. Si sente come sta suonando la stanza anche senza avere uno strumento. Io suono il clavicembalo, portarmelo appresso direi che è una cosa un po' un po' agevole. Però veramente anche solo per il suono della voce si sente subito se è una stanza e risponde bene. Qual è un luogo o di Trieste o anche vicino che diciamo insolitamente si adatta, che impensabilmente si adatta a questo tipo di cose? Tolto eventualmente quello dove vi esibite domani? Ma diciamo, non lo so, non mi viene in mente un posto inusuale perché che un museo suoni bene è abbastanza normale, diciamo la verità. Sì, questo è anche vero. Anche ricordo noi abbiamo esordito, abbiamo fatto il primo concerto di Wunderkammer e fu il primo evento pubblico dopo l'inaugurazione alla Serra del Museo Sartorio. Ah! Che è un luogo che la sera diventa magico perché c'è il giardino sullo sfondo con le luci così. L'acustica non è molto riverberante ma si presta a un concerto di liuto, un concerto così molto intimo. Facciamo addirittura un concerto di clavicordo, lo strumento più esile dell'universo. Ci fu un silenzio di tomba e fu veramente magico sentire questo suono ineffabile con una cornice così bella. È anche vero questo, questa magari è una riflessione un po' che ci porta un po' dappertutto, però è anche vero che sempre più persone apprezzano, forse è un discorso che magari più che per la musica vale anche per il teatro, per certi versi, ma comunque apprezzano di sentire un concerto, di ascoltare anche degli attori eccetera, con meno, come posso dire, con meno amplificazione possibile, più al naturale possibile. L'altra settimana al Rossetti c'era Lavia, tra l'altro nessuno ha osato tossire durante tre ore per la paura che Lavia, come è sua consuetudine, si accanisse contro gli spettatori. Io l'ho intervistato anni fa e mi ha detto però adesso io sento un po' meno, per cui anche se la gente... Però si vede che non lo sapevano ed erano tutti silenziosi, non ha tossito nessuno, ci sarà anche un motivo secondo me, ma questo è un altro discorso, e c'era un'amplificazione molto naturale eccetera, quindi se la voce veniva dal fondo della platea, la sentivi dal fondo della platea e non sul palcoscenico come spesso succede quando c'è l'amplificazione, ma sempre più spesso la gente torna a questo tipo di... Che è un po' il discorso che si fa con il ritorno, se vogliamo, del 33 giri, del vinile, piuttosto che del compact disc, cioè di qualcosa che suoni più vero. Esatto, siamo in un'epoca veramente in cui la realtà virtuale tende a sovrapporsi in maniera inquietante con la realtà e quindi c'è questo bisogno di ritrovare un'umanità, semplicemente un'umanità. In questo senso lo strumento antico, cioè questa filosofia anche di voler suonare la musica del Settecento su strumenti del Settecento, ahimè non originali perché costerebbero troppo, ma insomma delle copie di strumenti del Settecento e un voler ritrovare questa dimensione più naturale, più a misura d'uomo. Ecco lei ha anticipato un po' una domanda che gli avrei fatto e che faccio adesso anche perché ci abbiamo pian piano verso la conclusione. Ecco, sono strumenti che non possono essere quelli originali per forza di cose, insomma. Allora, un mio carissimo amico possiede un clavicembalo del 1735, uno dei più belli al mondo, originale. E lo tiene chiuso in cassaforte? No, ricordo che una volta, ahimè, lo accompagnai a una registrazione e io e lui lo trasportammo, stiamo parlando di un 80 kg di strumento, su per delle scale e a chiocciola di un castello. Ma come ti posto aglio e olio con, adesso mi scusi il riferimento, ma sembra col pianoforte. Con il pianoforte, sì, ho perso dieci anni di vita e qualche tendine, però erano cose che facevamo da ragazzi. Diciamo che ecco, sì, avere uno strumento antico però impone che o te lo tieni a casa o paghi un'assicurazione mostruosa perché sono strumenti a questo punto estremamente costosi. Infatti, chi ha incomodato d'uso uno stradivario, un violino così, questi strumenti sono di fondazioni multimiliardarie che pagano delle assicurazioni disumane, è ovvio. Io avevo letto, non mi ricordo dove, sul Corriere della Sera, credo un'intervista dove si raccontava la storia di un personaggio che per conto delle assicurazioni o per conto dei teatri, adesso non mi ricordo se, portava gli stradivari che servivano per un concerto o per un concertista piuttosto che un altro ed è qualcosa di straordinario, insomma tutte le precauzioni che vengono prese, eccetera. Ovvio, diciamo, ecco, lo stradivario ha un valore mostruoso, un clevicembalo antico per esempio ha un valore notevole, non così enorme, dipende ovviamente dagli strumenti. Diciamo che lo strumento antico sì, è bello poterlo suonare quando è in loco, ecco, io farò un concerto a maggio al Museo degli Strumenti Musicali di Roma e potrò suonare uno strumento del museo restaurato. E lì si capisce subito che si ha a che fare con qualche cosa di... Allora, non tutti gli strumenti antichi sono straordinari, ma se sono straordinari sono pazzeschi, perché a questo punto hanno 200 anni di stagionatura, 300 anni di stagionatura, il legno è perfetto, è risuonante al massimo e sono un miracolo, per me è sempre un'emozione fortissima. Mi manca, perché poi anche lei ha studiato su quelle cose, per cui è ancora più... Toccare, poi anche toccare gli strumenti, cioè credo che... Sì, c'è un lato feticistico delle... Sì, posso immaginare anche... Deve avere a che fare così da vicino con uno strumento che ha visto tanto, che ha veramente vissuto la storia. Allora, non vorrei dimenticarmi, per questo abbiamo ancora due minuti e faccio subito la domanda, per partecipare domani bisogna prenotare, basta arrivare, bisogna iscriversi... Bisogna prenotare o via mail o via telefono al numero che adesso andrò a dire... Allora, vediamo un po'... Allora, il telefono è 370 30 71 812, ma bisogna fare molto in fretta perché siamo quasi sold out. E c'è anche poi, immagino, il sito... C'è il sito naturalmente di Wunderkammer, www.wunderkammer.trieste.it, dove si trovano tutte le informazioni. C'è ancora qualche appuntamento o diciamo la stagione si conclude? La stagione si conclude qua, abbiamo da poco, da due giorni saputo che abbiamo i finanziamenti per la prossima stagione, quindi... Quindi se non da venerdì, da sabato vi mettete subito a lavorare anche per la prossima stagione. È già pronta in realtà. Bene, allora quando crede venga a parlarcene perché... Ma molto volentieri. Con lei è sempre piacevolissimo scambiare quattro chiacchiere. Anche per me è un grandissimo piacere. Allora, noi ci vediamo... Ah sì, domani. Domani è giovedì, come sempre alle ore 18. Grazie a Paola Erdas del Festival Wunderkammer per essere stata con noi e ricordate dell'appuntamento di domani alle 20.30 in Torre del Lloyd con Beth Stone e Daniel Murphy e con Paola Erdas, voce narrante. Arrivederci, buona serata. Arrivederci.